Ce l'avete voglia eh? Ho fame! Mettiamo la birra in fresco. Mi dovete aiutare, non dovete solo mangiare eh? The sound of love lo fanno pure con le patate eh? Ce l'avete voglia da stare qua con noi eh? Ragazzi è pronto a tavola! Viva la patata, vai forza! Fa freddo, buttiamo un po' di legna, vai Mario, guarda. Così, ci stiamo a preparare eh? Guardate là, le braccia sta andando, ora cuciniamo eh? Stiamo a preparare l'aperitivo? Che ci sta? Soppressata. Soppressata è questa. Salsiccia di suino nero piccante. Caciocavallo. Caciocavallo. Salsiccia di suino dolce. Ecco qua. Guarda, qua stavo in Calabria. E qua tutto quello che tocchi e mangi è buono, è tutta roba buona, perché guardate quanto cresce sta roba, guardate. Guardate il spettacolo. Allora un brindisi alla sera della patata. Viva la patata, vai forza! È brutta, è vero? Ma quanto è buona! E questa è la bellezza di sta patata, c'è un sapore perfetto. Oh, questo è il regno della patata. Venite amici miei. A presi tempo, ha portato un posto magico. Benissimo. Andiamo, va. Qua stiamo confezionando in questo momento, vedi, escono i sacchi. Guardate che figo. Escono qua i sacchetti di patate, che potete trovare in tutti i fondi venti, nei suoi mercati ovunque, guardate. E la cosa bella, che la vedete, non è lucida, è un po' zuzza, perché così non viene attaccata dagli agenti esterni. Ed è bella per questo, che ti dà quel senso di rusticità. E il sapore dentro, potete dire che è buona. Mario, ma le hai visto mai tutte queste patate, tutte insieme? Eh? Ho fame. C'è proprio le patate. Ora ce le facciamo, ora provate che cucinano. Poi con le patate che non sono buone alla vista, poi escono da qua, vedi? E quelle che non sono buone le tolgono. Però quelle che non sono buone, non è che non sono buone da mangiare, non sono buone da mettere nei sacchetti perché è alla vista. Ma se io ti faccio vedere, prendi una patata da scarto. Questa. Vedi, c'ha solo un piccolo difetto, non è proprio da buttare. Tutto il resto è buona, ma per evitare che qualcuno possa scartarla, non la mettiamo nel sacchetto. Sono le patate perfette. È uno scarto sano, è solo che alla vista, se sta nel sacchetto, tu non lo compri, io non la compro. Quindi la danno all'industria. Patate fritte, patate di tutti i tipi ci faranno. o il purè, o il fiocchi di patate. Ci faranno tutto questo. Pietro, ma come fai a mantenere la patata da settembre a oggi, che stiamo a marzo? Allora, intanto siamo in montagna, quindi si mantengono naturalmente, perché questo, come vedi, è un magazzino che è coibentato e si tiene comunque una temperatura di 7 gradi. Poi abbiamo un piccolo segreto che adesso ti spiega. Dimmelo il segreto, dimmi il segreto. No, Mario, ci dice il segreto all'orecchio, dai. Che odore senti? Sì, menta, tipo menta. Viene trattata questa patata con la menta e con l'ozono. L'ozono disinfetta e la menta mantiene e non fa germogliare e si mantiene fino a giugno tranquillamente. Perché voi se tenete una patata a casa, la comprate, la tenete un po' di tempo, quella comincia a germogliare. Invece sti furbetti dell'asila, avete visto, sono ventati con la menta e l'ozono. Pazzesco, che gli hanno. Ti faccio vedere, guarda. Queste sono patate che sono state raccolte a ottobre, novembre massimo. Oggi è marzo, è metà marzo. Guardate la patata com'è. Se voi tenete una patata per 6 mesi dentro casa vostra, 5 mesi a casa vostra, cosa succede? Impesta tutto. Sì, ma poi tra l'altro questa la teniamo così fino a maggio inoltre, quasi giugno. Quanti raccolti ci sono le patate? Uno solo. Uno solo. Facciamo uno solo all'anno, settembre, ottobre, massimo arriviamo a novembre. E queste sono pronte per partire. Le possiamo trovare ad entrare al supermercato, dentro al negozio. Domani sono già sul supermercato. Noi consegniamo A per vincere domani, per dopodomani sono già sul supermercato. Allora, cosa importante, Presidente. Allora, deve essere così la confezione. Ci deve essere scritto, vedete? Il marchio IGP. Il marchio IGP è una cosa fondamentale. Voi potete andare col QR code e il numero dell'otto e capire esattamente dove sono state coltivate. Vado al codice Lotto, che è questo qua, 0780. Ecco qua, vedi? E mi esce l'azienda da dove viene, vedi tutto quanto, e poi l'appezzamento di terreno. Mamma mia, spettacolare! Fighissima sta cosa, bella. E poi in più ti facciamo vedere pure un'altra piccola cosa. Ecco qua. Questa è l'analisi di tutti i pesticidi, tutti gli alimenti, e questo deve essere tutto a zero, vedi? Perché siamo in un parco nazionale. Perché siamo in un parco nazionale, nel nostro prodotto di tutto questo non c'è traccia. E questo parco nazionale della Sila ha l'area più pulita d'Europa, vero? E gli agricoltori più onesti. Dai, andiamo a cucina, dai. Il pane è la cosa più complicata da fare sulla braccia, soprattutto quando è bella ardente e così. Quindi mettetela sempre fuori dal fuoco diretto e controllatela. È una cosa veramente, guarda, che facilmente si brucia. La bruschetta è con l'aglio, quindi strofilata d'aglio, olio. E questo intanto li tenemo buoni. Mentre io cucinerò una spatellata di patate, cimetina di rapa e formaggio. Una cosa pazzesca, con la patata della Sila. Madonna Bruno, io voglio bene. Pietro, dammi due patate, va. Una. Ecco qua. Ma Pietro, ma che c'hanno di speciale queste patate? E beh, intanto guarda dove sono cresciute. Cosa c'hanno di speciale. Poi considera che questi vengono fatti con quest'acqua, che è acqua pura, è acqua di sorgente, è molto buona. Ma perché queste patate sono così brutte, sporche? Ma vi dici perché? Ci sono poi quelle invece tutte belle lucide, pelate. Eh, perché queste sono naturali, no? No, noi teniamo una tiurra. È importante prenderlo al naturale perché è così. Intanto conservano di più la loro capacità. Poi non si ammuffiscono. No, c'hanno tante caratteristiche. Queste patate hanno più sostanza secca, quindi meno acqua. C'è una percentuale più alta. Quindi sono, intanto no, sono più nutrienti. Ma soprattutto, ecco, mantengono bene la cottura perché c'è meno acqua chiaramente, no? Quindi vedrai come... Oggi facciamo la prova. Sì, sì, no, no. Oggi facciamo la prova perché poi tutte le ghiacchie stanno a zero. È buona o non è buona? È acquosa o non è acquosa? Quindi non avendo acqua è anche buona per fare gnocchi. È certo. La cosa bella è che poi c'è un giro nell'agricoltura di questa zona. Non si fa sempre tutti gli anni la patata. Si cambia, è vero? Sì, no. Noi facciamo le rotazioni perché così manteniamo la fertilità dei terreni. Mettiamo il grano, mettiamo gli erbai, mettiamo gli ortaggi. Perché le rotazioni, lo sai, noi in agricoltura sono fondamentali per mantenere la fertilità dei terreni e la sanità, la solubilità dei terreni. Allora, tante volte si parlano di prodotti pazzeschi, buoni, che difficilmente poi si possono trovare sul mercato nazionale. Questa come è? Questa la puoi trovare dove vuoi, in tutti i mercati e in tutte le grandi distribuzioni. Senza nessun problema. Patata della Siva, eh. Basta vedere sto marchio. Questa è una patata tutelata, indicazione geografica protetta. E dai, eh. Quindi è riconosciuta dalla comunità europea e il consumatore ha una garanzia in più, dai. Una patata che comunque è blasonata, non è una patata così. E dai, c'è la medaglia, c'è la medaglia. Mi dovete aiutare, non dovete solo mangiare, eh, ragazzi. Non lo so, è complicato. Vai. Qui fate come mi pare. Posso tagliarla a cubetti, posso tagliarla a fettine. A me piace più a cubetti, così la rosolamo bene esternamente e dentro rimane succosa. Questi sono più che sufficienti. Guardate che padella. Bella, di ferro. Quelli che piacciono a noi. Ruspante. Olio. Patate. Aglio. Con tutta la camicia. Cipolla. Abbondante. A pezzettoni grossi, eh. Dorate, mi raccomando, eh. Un po' di vino adesso. Questo. Ah, mo' si. Mo' si me vuoi bene. Cimeterapa. Qua. Via. C'avete voglia da stare qua con noi, eh. Potete venire quando volete voi. Qua, sulla sera, le porte sono aperte. Cucchiarella. Guardate qua che spettacolo. Allora, questa è la grandezza di questo territorio. Con poca roba. Di qualità. Che costa poco. Che tutti si possono permettere. Da mangiare bene. E sta bene. Perché quello che mangi sei. L'acqua. Del ruscello. Che scorre. La usiamo. Un po' per bagnare. Ok? Così aiutiamo la cottura. The sound of love lo fanno pure con le patate, eh. Anzi, riesce meglio. Bravo Mario. Aiuta papà. Fai gli toccare il cibo. Perché così imparano questi bambini a stare in cucina. A stare insieme a voi. Levatevi quel telefono da mano. Via. Brace. Brace. Dai. Non si mangia. Dai. Così le voglio far diventare belle dorate. Fatele un po' attaccate sulla padella. Mettiamo la birra in fresco. Acqua si incassa. Perfetto. Alla grande. Ricordate del sale, eh. Bruno, io diamo. Io metto un ginocchio Bruno. Alla mettiamo il colpo. Grande. Vai. Vai, Camerou. La patata è pronta. Guardate che bella. Si rompe, ma è rimasta intera. Adesso è l'ora del formaggio. Questa è una cacciotta di pecora, di latte di pecora e capra. Bu qua via. File e fondi, famo. Abbondante, eh. E poi per chi lo vuole c'è il peperoncino. Lo mettiamo a tavola perché ci sta Mariuccio. Ho fame! Ora si mangia, Mariù. Mamma mia. Eh? Non c'avete voglia, eh. Ragazzi, è pronto a tavola. Dai, eh. Per prima te, amore. A te senza peperoncino passerò. Tiè. Così. Vai. Questo è per te. Ce lo vuoi il peperoncino? Certo. Tiè, guarda che bello. Guarda che colori, tiè. Birra. Questa c'è questa birra calabrese, tiè. Mania. Ragazzi, spettacolare. Questo profumo del fumo. È pazzesco. Questo gusto. Au, un attimo. Tiè. Vai. Max, ho detto la scommessa. È buona. Se la trovate, provatela, ragazzi. È una gran patata questa. È la più migliore di letta e patate. Tiè, bagna, va.